Musica Lunedì 18 gennaio, buon inizio di settimana in regia questa mattina Donato, Mignogna, Molise stretto come dire nella morsa degli eventi naturali tra la neve e il terremoto ma andiamo con ordine e diamo subito l'elenco delle scuole chiuse questa mattina in provincia di Campobasso e Isegna le vedete nella grafica, dunque Campobasso, San Giuliano del Sannio, Limosano, Campo di Pietra, Ferrazzano, Cerce Piccola Torella del Sannio, Montenero di Bisaccia, Mirabello, Petrella, Ripa Limosani, Montagano, Morrone, Gildone Ielzi, Toro, Campolieto, Sepino, Vinchiaturo, Cerce Maggiore, Riccia, Guardiareggia, Castropignano Casa Calenda, Spinete, Ribapottoni, Bonefro, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Montorio Nefrentani Gambatesa, Tufara, Fossalto, Castelmauro, Oratino, Colletorto, Monte Falcone e ancora proseguiamo con le scuole chiuse oggi a Sant'Elia, Pietracatella, Monacilioni, Immacchia, Valfortore, Rotello, Larino, Mafalda, Acquaviva con le Croce Trivento, Roccavivara, Baranello, Busso, Tavenna, San Felice del Molise, Morrone nel Sannio Civitanova del Sannio, Frosolone, Agnone, Belmonte, Bagnoli del Trigno, Poggio Sannita, Carovilli, Pietrabbondante Guionesi, Vasto Girardi, Macchia Godena, Capracotta, Miranda dunque queste sono le scuole chiuse oggi chiaramente se ci saranno degli aggiornamenti ve li forniremo attraverso le videate che vedrete nel corso delle repliche della rassegna stampa intanto dicevamo c'è l'emergenza a neve dalla polizia stradale di Campobasso ci segnalano che non ci sono grosse difficoltà sulle arterie di competenza nevica nella zona di Agnone, sulla Trignina tra Isernia e Civitanova del Sannio anche sulla Bifernina fino al bivio di Guglionisi però tutto sommato ci dicono Anas, è confermato anche da Anas e provincia che non ci sono grossi problemi alla viabilità qualche problema ancora è stato segnalato sulla statale 16 nella zona di San Vito Chietino mentre per quanto riguarda il capoluogo i mezzi Spartineve e Spargina Sale sono all'opera da questa mattina presto e anche in città al momento non si segnalano grosse difficoltà nella circolazione chiaramente l'invito è sempre quello a limitare al massimo l'uso del mezzo proprio e di servizi del trasporto pubblico per gli spostamenti dicevamo dunque il Molise è stretto nella morsa degli eventi naturali dei fenomeni naturali e una serie di scosse di terremoto anche nel corso della notte la più forte si è registrata alle 23.09 di 3.6 della scala Richter allora dicevamo chiudiamo questa parentesi vi dico ancora che se ci saranno aggiornamenti sulle scuole chiuse ve li daremo in diretta e andiamo subito alla rassegna stampa chiaramente la stampa regionale si occupa di queste situazioni come dire di emergenza così anche tra virgolette possiamo usare questo termine comunque insomma nevica ci so c'è il terremoto vedete il giornale del molise.it in evidenza terremoto e neve gli aggiornamenti e l'elenco delle scuole chiuse vediamo anche le altre notizie si parla di nomine incarichi e consulenze la corruzione che impoverisce e inquina il nostro paese anche qui sul mal tempo vigili del fuoco all'opera situazione non particolarmente difficile come ci è stato confermato questa mattina anche dalla polizia stradale di Campobasso e vediamo qualche altra notizia la CGL striglia la politica perde tempo mentre il molise muore questo nel corso di una conferenza stampa nel fine settimana per la cronaca da Venafro, Ashish e Marijuana nell'auto denunciati tre giovani la sezione editoriali idee e opinioni in alto si parla proprio delle nomine incarichi e consulenze la corruzione che impoverisce inquina il nostro paese in un articolo a firma di Vincenzo Musacchio vediamo primo piano l'apertura chiaramente su neve e terremoto dopo il sisma arriva il gelo freddo e neve sul molise disagi e incidenti auto contro camion all'uscita di Campobasso un 33enne e in gravi condizioni precipitazioni copiose nel capoluogo e nella zona di Agnone fiocchi pure sulla costa scuole chiusi abbiamo visto in molti comuni 60 scrive primo piano si fermano anche le attività didattiche dell'università intanto la terra continua a tremare l'invito di frattura meglio sospendere le lezioni le altre notizie prima di passare allo sport portassessori e clima nel PD e riforme Fanelli detta l'agenda giro di boa ok ora pronti a ripartire c'è un'intervista l'ex sindaco Brasiello rompe il silenzio siamo ad Isernia non butterò a mare il mio impegno restiamo ad Isernia Camorrista in fuga per raggiungere i parenti in Belgio scoperto e arrestato dai carabinieri grande spazio chiaramente il lunedì allo sport in particolare il calcio lupi sconfitta e rimpianti ma la resa è a testa alta alla Samb i tre punti al campo basso la prestazione la capolista vince a fatica Alessandro risponde a Casavecchia Titone decide dal dischetto per un errore di Rao Isernia la gioia che serviva Giulianova va al tappeto al Lancellotta decide Ruggieri e a Dagnone Civitale imbiancato rinvio dunque della partita per l'Agnonese viaggio a vuoto per l'Avezzano nel calcio regionale il sesto campano si conferma bestia nera della Dauna Pietra Montecorvino super col macchia record in cadetteria a Roccasicura la gara finisce 9 a 6 dall'Abruzzo la Vastese non gioca il paterno la aggancia il cupello crolla Montesilvano San Salvo fermo Sorriso Marina con Madonna chiudiamo primo piano andiamo a vedere il quotidiano del Molise in alto sotto la testata la terra continua a tremare la faglia del Matese è sorvegliata speciale frattura ai sindaci chiudete le scuole in corso verifiche negli edifici per accertare eventuali danni e si ferma anche il calcio previsioni rispettate questo per il maltempo freddo polare e neve su tutto il Molise la cronaca da Isernia camorrista in fuga arrestato dai carabinieri mentre da Campobasso auto contro camion grave un 33enne grande foto per il Campobasso onori ai lupi punti alla Samba il Campobasso fa la partita ma paga caro due errori il patron marchigiano si complimenta bene l'Isernia che esulta nella finale Ruggeri stende il Giulianova ma anche qui rinvio ad Agnone causa maltempo uno sguardo adesso a futuro Molise quotidiano telematico da Campobasso non si arresta lo sciame sismico che interessa da giorni l'area del capoluogo ai paesi limitrofi ieri sera quattro scosse in mezz'ora scosse che si sono protratte per tutta la notte anche nelle prime ore della mattina sciame sismico restiamo in argomento Frattura invita i sindaci a chiudere le scuole controlli su edifici più approfonditi riferimento sulla destra Guerrero Sannita la cittadella dell'economia nel capoluogo è inutile così come è concepita riconvertirla in polo scientifico e tecnologico le altre notizie sempre per quanto riguarda il maltempo blocco dell'attività didattica a causa della neve in 57 comuni scrive Futuro Molise della provincia di Campobasso e in 10 della provincia di Isernia gli aggiornamenti ve li ricordo li daremo nel corso della rassegna stampa trivelazione in Adriatico Venitelli del PD depositata alla Camera dei Deputati un'interrogazione urgente rivolta al Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi qualche altra notizia a Termoli reddito di inclusione sociale c'è l'avviso pubblico per la politica sinistra democratica rilanciare il PD questo dunque è quanto troverete queste e altre notizie oggi su Futuro Molise dai quotidiani locali adesso ai nazionali in apertura sul Corriere della Sera mai violenza in nome di Dio l'abbraccio del Papa al Rabbino Capo Francesco voi sorelle e fratelli maggiori il no al terrore e la memoria della Shoah al centro della cerimonia in sinagoga di segni nuova era è stato detto dal Corriere della Sera adesso passiamo a Repubblica anche qui ampio spazio la visita del Papa alla sinagoga il Papa non uccidete in nome di Dio in Siria lo Stato Islamico massacra 300 civili visita alla sinagoga no all'antisemitismo sulla sinistra unioni civili i dubbi del colle pronte le modifiche passiamo adesso alla stampa di Torino apertura anche qui dedicata al pontefice Papa Francesco nella sinagoga incompatibili fede e violenza la visita del Papa no ad ogni forma di antisemitismo di segni simbolo di una nuova era i musulmani in Italia raccolgono la sfida il dialogo è possibile e poi una notizia un bimbo italiano morto in Burkina Faso c'è l'intervento del Capo dello Stato i terroristi vogliono distruggere il senso stesso dell'umanità e qui vedete la foto del piccolo Michael nove anni insieme con la mamma era un bimbo italiano chiudiamo la stampa passiamo al fatto quotidiano la guerra all'Europa era finta e si parla così come dire delle polemiche tra Renzi e Juncker il Premier minacciava Sfracelli ma vuole solo lo sconto sul deficit il tramonto di Banca Italia c'è un approfondimento su quella che viene definita nella storia di Copertina del fatto quotidiano chiudiamo anche il fatto andiamo a vedere Libero che cosa ci propone questa mattina lo scandalo di Banca Etruria la fabbrica dei dossier dell'amico di papà Boschi Mureddu sodale di Carboni è sotto inchiesta a Perugia e ad Arezzo con una misteriosa società ha fatto indagini non autorizzate su persone e aziende e ha spiato i movimenti dei finanzieri chiudiamo anche Libero passiamo al messaggero quotidiano della capitale svolta fisco cambiano i controlli in arrivo la riforma delle agenzie verifiche meno invasive e più ricorso al web la vigilanza passerà direttamente a Palazzo Chigi l'evasione per il Fondo Monetario Internazionale è troppo tardi dal messaggero all'altro quotidiano della capitale il tempo botte e ricatti ecco il racket della casa c'è un'inchiesta in tribunale i protagonisti delle intimidazioni agli occupanti di Roma picchiate anche donne incinte e chi non faceva casino perdeva l'alloggio da Roma alla Campania con il mattino il terrore non risparmia gli italiani razzi contro l'ambasciata a Kabul nella strage del Burkina morto un bimbo calabrese talebani Isis e Al Qaeda è attacco globale chiudiamo anche il mattino passiamo alla gazzetta dello sport di Bala 10 e Lode Valanga Juve 4 reti a Udine argentino super in alto invece Milan cantano i big boys Bacca e Boa schiantano la viola Mialovic scaccia il fantasma Conte poi ci sono altri richiami come vedete sulla spalla sempre per quanto riguarda il calcio e altre discipline sportive con la gazzetta finiamo la rassegna stampa ma prima dei saluti finali come ogni lunedì la linea alla redazione sportiva per gli highlights Miternina Matelica 1-0 Chieti 0-1 con la fermana Folgore Vere Grafano 0-3 Isernia Giulianova 1-0 Iesina Monticelli 1-0 Olimpia Agnonese Avezzano è stata rinviata Ricanatese Vispesaro 1-0 San Benedettese Campobasso 2-1 San Nicolò Teramo Castelfidardo è finita 3-2 Passiamo alla classifica Capolista San Benedettese 48 punti Fano 40 Matelica 39 San Nicolò 31 Iesina 30 Campobasso 29 Monticelli Fermana 27 punti Chieti 26 Folgore Veregra Isernia 26 Recanatese 25 Avezzano 24 Castelfidardo 20 Vispesaro 19 Olimpia 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 Nionese 17 Anche Amiternina E chiude la classifica Giulianova con 15 punti Sconfitta 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 per 2 a 1 Dal dischetto Dal dischetto Titone Realizza il 2 a 1 Finale All'83 Treppini Termoli Termoli 6 a 1 Venafro Casanuovo Montenotaro 2 a 0 Ha riposato quest'oggi Real Montenero Passiamo alla classifica Treppini Matese 42 Vasso Girardi 40 Venafro 39 Gioventù Calciodà 1 a 38 Sesto Campano 33 Alife 32 Termoli 30 Macchia 26 Caravindola 24 Limpiariccia 22 Polisportiva Gambatesa 20 Pietramonte Corvino 19 Anche Real Montenero Comprensore Ovairano 16 Cliternina 14 Campobasso 19 19 13 Casanuovo Montero 7 All'ottavo il vantaggio del Macchia il marcatore è Desimone sull'assist di Giordano al 17esimo il gol del pari per il Pietramonte Corvino lo segna Ferro il sorpasso arriva al 21esimo della ripresa con il gol di Marino e dopo soli tre minuti Ferro sul filo del fuorigioco vince l'uno contro uno con Biasella e realizza il 3 a 1 nel recupero c'è gloria anche per Terlizzi finale Macchia 1 Pietramonte Corvino 4 Baranello Cercemaggiore Castelmauro Frentani Lopetti Guglionesi Bois Ielsi Metal Zilembo sono state rinviate Petacciato Matese è finita 1 a 0 Rialprata Rosetto 2 a 0 Rialzan Martino Santeliana 2 a 2 Roccasicura Carullo 9 a 6 Torremagliano Campodipietra 1 a 2 ha riposato oggi lo spinete passiamo alla classifica Apre la classifica Lupetti Guglionesi con 43 punti Campodipietra 39 Frentania 33 Bois Ielsi 30 Roseto 29 Cercemaggiore 27 ed anche Roccasicura Baranello 25 Rialprata 24 Santeliana 23 Spinete 22 22 anche per Torremagliano FV Pimatese 19 Petacciato 18 ed anche Rialzan Martino Chiudono la classifica Carullo con 17 punti e Castelmauro 16 punti Bene con gli highlights adesso ci fermiamo e ci salutiamo grazie per averci per essere stati con noi vi ricordo che gli aggiornamenti sulle scuole chiuse ve li daremo se arriveranno attraverso lo scroll che vedrete in basso sul vostro teleschermo grazie dell'attenzione buona giornata grazie a tutti grazie a tutti